Amici di Marcosbox, benvenuti in questo piccolo video nel quale vi mostrerò uno dei nuovi tour che il team di Mangiaro ha pensato per la sua distribuzione, tour che sarà integrato non si sa quando, ma sarà integrato all'interno di Mangiaro Gnome. I tour in questione è Layout Switcher, ve ne avevo parlato già qualche tempo fa, nello scorso mese di ottobre Mangiaro aveva annunciato, aveva chiesto meglio ai lettori quale fosse il layout più gradito dalla community al fine di rinnovare l'edizione Gnome, l'aspetto dell'edizione Gnome di Mangiaro. Successivamente tramite un tweet è stato annunciato questo tour chiamato Layout Switcher. Layout Switcher è possibile installarlo dai repository community di Mangiaro, adesso andiamo a vedere come funziona questo tour. Vedete bene, questa è l'interfaccia predefinita di Mangiaro, adesso andiamo a lanciare questo tour, dove cavolo sta, ecco qua, Layouts, abbiamo Layouts o Layout Switcher. Nella schermata principale abbiamo quattro layout che si possono selezionare e abbiamo anche un disegno, uno schema che ci mostra come sarà l'aspetto finale. Il look di Mangiaro, quello predefinito di Mangiaro Gnome, lo sapete, è fatto dalla barra laterale con il menu attività e quant'altro. È possibile attivare il Layout Windows, andiamo a vedere come funziona il Layout Windows su Mangiaro. Un attimo che carica, visto che al primo avvio questo tool ci mette sempre un po' di tempo per caricare il nuovo Layout. Questo è il Layout alla Windows, quindi con Dash to Panel in basso, con la visualizzazione in anteprima dell'icone, con Arc Menu che va ad essere il menu predefinito, quindi un menu funzionale alla Windows, quindi in tutto e per tutto alla Windows. Abbiamo poi il Layout Mac OS, andiamo a applicarlo, andiamo a vedere che cosa fa questo Layout. Un attimo che lo applica, questa è anche colpa dei Simple Screen Record che sta in background. Ecco qua, questo è il Layout alla Mac OS, andiamo a vedere che cosa ha fatto. Ha fatto, praticamente ha spostato i pulsanti massimizza, minimizza e chiudi sulla sinistra in stile Mac OS. Adesso andiamo a vedere, c'è una dock in basso, clicchiamo qui, c'è in mostra applicazioni, quello tradizionale. Non fate caso alla lentezza delle animazioni perché sto su un computer che è abbastanza adattato, poi sta anche registrante e quant'altro, quindi va un po' a cozzare. Sulla destra abbiamo l'ora spostata appunto sulla destra e adesso vi faccio vedere che cosa succede se mettete una finestra a tutto schermo. Ecco qui, i pulsanti massimizza, minimizza e chiudi, vanno a integrarsi all'interno del pannello superiore e anche la gestione delle funzionalità delle varie applicazioni che va a integrarsi sopra. Quindi proprio in stile Mac OS, adesso vi faccio vedere, ne so, con Nautilus come si comporta, questa è la visuale, non ha tutto schermo e qui ha tutto schermo, quindi cliccando qui su Home possiamo fare Home, nuova finestra e quant'altro. Layout carino, per tutti i fan di Mac OS saranno contenti. Infine c'è il layout Gnome che è quello tradizionale di Gnome, quindi va a disattivare tutte quante le dock e abbiamo soltanto la share nella sua bellezza. Qui c'è un piccolo artefatto grafico, non ha caricato correttamente il layout Gnome, ma con un riavvio dovrebbe tornare a funzionare. Quindi è un piccolo bug che, sapete bene che io i bug li scopro praticamente ovunque. Andiamo a vedere, sta ancora continuando a registrare? Sì sta ancora continuando a registrare, perché non vedevo l'icona. Allora che cosa abbiamo? Qui abbiamo un segretto, non c'è. Oltre a questo è possibile attivare tramite questo segrettore le icone sul desktop. Adesso ci sono, adesso non ci sono. Qui abbiamo dei collegamenti rapidi all'editor di sfondi dinamici. Qui ci consente di aprire Gnome Tweak Tool, quindi per andare a fare personalizzazioni, ulteriori personalizzazioni diciamo al layout, quindi cambiare teme e quant'altro. qui abbiamo il collegamento agli account online. Infine abbiamo anche un segrettore che ci consente di rimuovere le personalizzazioni di mangiare. Questo significa che va a rimuovere le personalizzazioni di mangiare riguardo il tema, quindi il tema di GDM, la schema di login, il tema di Gnome, quello generale della shell. Andando a spegnere il segrettore vi faccio vedere che cosa succede. Ecco qui ci viene proposta la modifica, quindi la rimozione del branding di Mangiaro, quindi molto indicato per quelli come me che odiano il tema predefinito di Mangiaro, odiano tutto questo verde che a me mette ansia, non so voi. Poi abbiamo anche il segrettore Wayland Session che non lo attivo perché mi crasha tutto. Che direi, questo layout switcher è davvero un tool interessante. Mi chiedo come mai nessun'altra distribuzione abbia mai pensato di introdurre una cosa del genere, perché è davvero molto comodo. In due click ci consente di andare a impostare il layout che più ci piace, senza andare lì a smanettare, senza fare i casini, senza andare a compromettere i file di configurazione e quant'altro. A me piace e speriamo che venga introdotta più presto all'interno di Mangiaro. Bene, con questo concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci vediamo al prossimo video, al prossimo podcast, al prossimo articolo. Vabbè, sapete dove seguirmi. Ciao ciao!